Eccovi qua, che piacere, ormai lo sapete, questo è Marco Polo Club, ben trovati a tutti, il programma che ogni giorno vi racconta le mete più esclusive, i viaggi da sogno e il lifestyle. In questa puntata fate molta attenzione perché vi faremo letteralmente sognare e per gli amanti della bella vita, e chi non lo è, siamo tutti amanti della bella vita, oggi è proprio l'appuntamento giusto per voi perché vi daremo tanti suggerimenti per vivere nel lusso, ancor più quando si parla di vacanze. Infatti in studio qui con me, tra poco mi faranno compagnia due belle e brave signore delle prestigiose società che si chiamano Ify Luxury Real Estate e Verdidea, che è una società partner appunto di Ify Luxury. Un po' non so gli lingua, ma abbiamo reso il concetto, le quali ci racconteranno come trascorrere una vacanza deluxe, quindi prendendo un affitto a una villa in una località esclusiva, o addirittura cambiare vita e acquistare proprio casa. Va bene, qualche suggerimento per una vacanza quindi esclusiva, lo ripeto spesso e ve lo rinnovo di nuovo, lo trovate sempre sul nostro sito ufficiale che è www.marcopolo.tv Se siete ancora indecisi potete scrivere comunque una mail al nostro indirizzo di posta elettronica che è marcopolo, chiocciolamarcopolo.tv Allora adesso entriamo proprio nel vivo del nostro argomento facciamo una lussuosa chiacchierata è proprio il caso di dirlo con Marina Villa e Nicoletta Innocenti benvenute e bentrovate della società Ify Luxury Real Estate e Verdi Idea in particolare la signora Villa la signora Villa eccola qua ecco con te ci occupiamo della parte inerente diciamo la vendita degli immobili di lusso mentre con Nicoletta posso dare del tuo anche a te perfetto grazie per quanto riguarda invece l'affitto allora Nicoletta affittare una villa prestigiosa è un modo proprio bello e sano di vivere la vacanza anche perché mi risulta che si può fare proprio tutto come se si fosse a casa propria mi confermi? Assolutamente sì noi ci occupiamo di questo da 23 anni ci occupiamo di ospitalità e non di affitto ci piace più chiamarlo in questo modo ecco mi sembra un termine più appropriato che crediamo moltissimo nella qualità dell'accoglienza noi diciamo sempre che il 50% della nostra offerta è fatto da bellissimi casali splendide location ristrutturazioni arredamenti con grande fascine e sensibilità ma l'altro 50% è costituito dalla qualità dell'ospitalità dalle piccole attenzioni i nostri ospiti si sentono a casa loro sono liberi di fare quello che credono ecco questo è molto importante Nicoletta perché per esempio facci capire meglio si possono organizzare delle feste invitare degli amici come se fosse insomma assolutamente sì non solo ma noi garantiamo il supporto per organizzare qualunque evento fino ad arrivare al programma wedding matrimoni noi facciamo tantissimi matrimoni anche per stranieri che si sposano in campagna nei casali in queste ville e facciamo anche una cosa particolare credo che siamo le uniche in Italia facciamo un programma gay wedding nel senso che in quel caso le coppie si sposano con matrimonio civile nel loro paese ma noi garantiamo questo programma gay friendly che è una cosa molto importante quindi non solo l'ospitalità come dicevi tu ma assistete anche il cliente in quelle che possono essere i suoi desideri successivamente all'affitto corsi di cucina cene particolari degustazioni di vini di olidi siamo completamente a loro disposizione loro hanno un ambiente di totale privacy dove possono sentirsi totalmente a casa loro in una condizione straordinaria e ospitati in modo ideale come hai detto tu voi offrite dei servizi per vivere un'esperienza esclusiva come hai detto prima tutto tondo insieme a IFI Luxury so che state lanciando un innovativo sistema di vendita definito il rent to buy cioè ci spieghi di che cosa si tratta esattamente questa è una vera rivoluzione culturale partendo da questa sensibilità di cui parlavamo prima per cui per noi è fondamentale che i nostri ospiti si sentano totalmente a loro agio abbiamo pensato che un altro momento così importante della vita di ciascuno di noi la vacanza lo è evidentemente perché è il momento in cui recuperiamo l'energia e la possibilità di condividere con le persone che amiamo i momenti belli però un altro momento importantissimo che si carica di tantissimi significati è quello dell'acquisto di una casa che non attiene solo ai bisogni ma soprattutto ai sogni di ciascuno di noi e allora abbiamo pensato che era completamente assurdo c'era un noiato incredibile tra il significato e il fatto che quando si acquista una casa si va con un agente immobiliare che ha l'orologio in mano affretta piove fa freddo non c'è la luce giusta già quello diventa stressante come si può acquistare una casa così e quindi con il rent to buy cosa volete dire il rent to buy vuol dire che si ha la possibilità di selezionare evidentemente due, tre, quattro immobili che si ritiene essere quelli che hanno le caratteristiche giuste e si ha la possibilità di viverli quindi questo con un rapporto assolutamente etico e trasparente quindi arrivare all'acquisto in un secondo momento esatto la formula funziona esattamente così si può selezionare degli immobili viverli a seconda del tempo che si ha a disposizione un fine settimana una settimana e a quel punto valutare se è veramente l'immobile giusto per noi e valutare in questo caso anche la totale trasparenza si capisce tutto di quella casa se ci sono le energie giuste se è la casa giusta e alla fine fare una scelta assolutamente consapevole questa è una cosa che in Europa non esiste siamo gli unici in Italia a farlo è una cosa che invece si fa negli Stati Uniti per proprietà importantissime come castelli e ville molto prestigiosi bravi torniamo un attimo indietro e parliamo a proposito di prezzi Nicoletta mediamente quanto può costare affittare una villa del vostro catalogo diciamo orientativamente un minimo di spesa in realtà in realtà l'offerta è estremamente eterogenea si può partire la nostra unità di misura è sempre la settimana e è tutto compreso gli ospiti hanno assolutamente tutto un all inclusive all'interno di questo prezzo che può partire dai 1800-2000 euro ma fino ad arrivare a 18-20 mila euro a settimana per ville pazzesche accessibile però sono prezzi adeguati sulla base di quello che poi si va a trovare posso assicurare che a 2000 euro si trovano delle proprietà straordinarie con una gamma di servizi assolutamente interessante va bene allora nel prendere in considerazione le cifre ne terremo conto senti Nicoletta in questo periodo si cominciano a pianificare le vacanze estive quindi dacci un bel suggerimento per una villa che cosa proponete? beh dove proporla sono di parte io proporrei la Toscana magari la Val d'Orcia magari la Val d'Orcia perché no San Quirico d'Orcia che è la nostra terra natale no in realtà io proporrei metodologicamente dare dei consigli metodologici e direi che forse la cosa migliore è andare a cercare i luoghi reconditi quelli che noi chiamiamo i luoghi dell'anima andare a cercare i luoghi meno noti meno conosciuti al grande pubblico sicuramente molto più interessanti molto più affascinanti certo e soprattutto farlo con una disponibilità con un'apertura con una curiosità verso quello che questa l'intensità di questa vacanza ci può offrire la parola vacanza deriva da vacuum latino quindi svuotiamo tutte le nostre convinzioni e sicurezze che poi sono le caratteristiche migliori per poter affrontare al meglio un periodo di vacanza io vi ringrazio moltissimo è stato un piacere brave belle ed esplicative come al solito abbiamo sognato anche in questa puntata se volete continuare a farlo vi ricordo di approfondire gli argomenti sul nostro sito www.marcopolo.tv per qualsiasi domanda suggerimento c'è il nostro indirizzo mail marcopolo chiocciola marcopolo.tv soprattutto non perdete il prossimo appuntamento con me con questo programma che è Marco Polo Club e che lo sapete è il vostro club più esclusivo di vacanze presente nel mondo della televisione alla prossima ciao grazie grazie a tutti grazie a tutti